Sta tornando tallo, questa è una notizia che vi diamo per dovere di cronaca, perché mi rendo conto che in questo momento la gente è veramente distratta rispetto alla squadra di Gautieri, però questa notizia era giusta. E oggi alle 18 c'è il calendario, l'estrazione del calendario, quindi capiremo un po' quale sarà il cammino del Bari. Questa è intanto una foto ricordo davanti all'albergo di Cavedago che ha ospitato la squadra bianco-rossa, credo che ci sia anche la foto con le nuove maglie del Bari, un po' ricalcano quelle degli ultimi anni, abbastanza semplici, niente di particolare, con i tre colori bianco-rosso e blu come terza maglia. E qui qualche foto da ritiro, riconosciamo Ghezzal Fedato, il terzo, mi vergogno a dirlo ma non so chi sia, mi credo che veramente mi sia capitato nella storia del Bari, a meno che non sia così trasfigurato la linguaccia che non riconosca un giocatore, Defendi o chiunque altro, non lo so, non lo riconosco, lo ammetto, non riconosco il terzo giocatore, il primo a destra praticamente. Vabbè, allora prendiamo qualche telefonata nel frattempo, vediamo se qualche telespettatore ha bisogno di fare domande a Pepino Accettura. Pronto? Ciao Enzo Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo io volevo già intervenire ieri all'avvocato che è sempre una persona, no, una persona molto lucida a parlare, usa una sua semplicità che veramente fa capire tante cose, quindi dobbiamo fare tutti i complimenti. Io volevo fare anche una domanda all'ospite, ma come mai la famiglia Mattarrizi, pur essendo una famiglia comunque professionista, non ci metto la mano sul fuoco, è riuscita a accumulare 30 milioni di euro, da quanto tempo e perché? Di chi è stata la colpa? Dei procuratori, dei commercialisti? Cioè che ha mandato mandato ai commercialisti, diciamo all'utenda? Questa è una bella domanda, questa è una bellissima domanda, è difficilissimo dare una risposta perché… Praticamente è impossibile perché chiaramente bisogna aver vissuto nella società per conoscere tutto. Comunque io l'ho sempre detto, la gestione di una società di calcio è a mio avviso per natura impassivo, perché gli impegni, gli stipendi, le spese, soprattutto gli stipendi e i calciatori, stanno assumendo da parecchi anni a questa parte… Però 30 milioni sono tanti, eh. Allora, come si è accumulato? Evidentemente, io facevo, ho fatto in passato l'esempio anche di Moratti Padre. Moratti Padre, quando rilevò l'Inter, praticamente utilizzava l'Inter come veicolo pubblicitario, perché organizzava soprattutto trasferte nei paesi arabi, perché mentre la squadra, che allora era già forte a livello europeo e quindi anche a livello mondiale, riusciva a vincere un po' su quasi tutti i campi, quindi aveva una bella… Lui raccoglieva immagini, insomma. Lui raccoglieva, la squadra raccoglieva le immagini, lui raccoglieva contratti con i petrolieri arabi, cioè metteva frutto. Quindi il passivo della società, ma è normale, ma del resto non esiste un imprenditore, perché notiamo i presidenti di società sono tutti imprenditori, non c'è una persona diversa, un professionista oppure un presidente per professione, sono imprenditori che traggono un'enorme pubblicità dal fatto di essere… Ti sidi ai tavoli che contano, hanno le porte spalancate in tutta la nazione e anche all'estero. C'è un amico in linea, una volta un presidente di una società provinciale disse, io per anni avevo cercato un appuntamento con Agnelli, nel momento in cui si è diventato presidente della squadra di calcio, dopo due giorni ero Agnelli. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo e ciao Pepino, c'è tu, sono Simone Palmieri. Ciao Simone, ciao. Simone Palmieri, perché erano i galletti. Ecco, adesso mi spiego, Pepino stasera sta chiarendo un po' tutta la faccenda, adesso veramente incomincio a vederci chiaro qui. Ecco perché quando l'americanazia di parto, gli altri monicasti accusati di non avere le carte in regola, ecco che cosa, ognuno di loro aveva l'esperto che guardate le carte, scappava via, faceva scappare via la piazza. La domanda che voglio fare a Pepino, allora a questo punto i mattarrize hanno un'unica soluzione per non pagare i debiti, far fallire i bari, no? Anche questa è una bella domanda, ne stavamo parlando prima, quale soluzione secondo te possono avere in mente i mattarrize in questo momento? Dunque, diciamo che si presentano due soluzioni, una è quella più razionale, quella della morte, tra virgolette, della società, quella di un miracolo. Il miracolo può essere rappresentato da una promozione in Serie A, ecco perché dico miracolo tenendo conto della struttura tecnica della squadra, perché per forza di cose non si è potuto al momento attuale ancora rinforzare, ma è stata indebolita purtroppo la struttura tecnica della squadra dell'anno scorso. Una promozione in Serie A vuol dire avere di colpo 24-28 milioni di diritti TV. Togliersi i maccini dei piedi. E quindi praticamente con l'altra offerta dei 11-12-15 milioni da parte dell'acquirente, si arriverebbe a coprire interamente tutti i debiti. Naturalmente resterebbero i debiti accumulati nella stagione in cui, comunque diciamo che a quel punto il grosso sarebbe fatto. Quindi, mentre invece... Oppure uno che va a comprarsi i debiti praticamente. Che viene e offre 40 milioni, poi ai 40 milioni deve aggiungere le spese correnti da pagare già dal primo mese e poi ha anche l'investimento per rinforzare. Un pazzo diciamo, un pazzo. Non credo che nemmeno in Arabia o in Russia esistano di questi personaggi. L'ipotesi più razionale qual è invece? L'ipotesi più razionale invece è quella che peraltro altri hanno già percorso, è quella del fallimento della società. Oppure anche quella di un concordato, come dicevo prima, però è quella che si presenta molto più difficile perché occorre una stratativa. Però c'è una certezza in Matarese. Hanno detto testualmente e per i toni che hanno usato quando l'hanno detto, io in questo caso credo a quello che dicono. Con noi il Bari non fallirà mai. Hanno detto questo. Allora, è accaduto in passato che due società molto importanti, il Napoli e la Fiorentina, siano arrivate al fallimento. Però era un fallimento concordato. Quindi non era un fallimento disonorevole. Era un fallimento previsto, razionale. Cioè nel 2002 Della Valle, che subentrò alla vecchia proprietà, organizzò tutto questo. Creò una nuova società. La Florenzia. La nuova Florenzia Viola. Questa società si iscrisse al campionato di C2. Poi ci fu il fallimento della Fiorentina. La nuova Florenzia acquisì il titolo della Fiorentina. Disputò il campionato di C2. Poi fu promossa direttamente in B. Perché Firenze è sempre stata una città e una società sempre un po' raccomandata, tra virgolette. Poi acquisì la promozione in Serie B per meriti sportivi e per bacino di utenza. Io credo che anche il Bari abbia un bacino di utenza di tutto rispetto. E quindi dalla Serie B poi passò in Serie A. Il Napoli con De Laurentiis. L'arrivo di De Laurentiis coincise con la costituzione da parte dell'imprenditore cinematografico della costituzione di un'altra società a latere, il Napoli Soccer, che si iscrisse al campionato di C1. Acquisì il titolo comprandolo dal fallimento, quindi comprandolo praticamente a prezzo di liquidazione. Quindi tentò la scalata per vie normali, non riuscì il primo tentativo perché perse con l'Avellino, perse ai play-out, e invece nel secondo anno riuscì la promozione. Appena ottenuta la promozione in Serie B, acquistò anche il marchio, così come aveva fatto anche la Fiorentina. E tornarono a essere Napoli. E tornarono a essere Napoli 1 e Fiorentina l'altro. C'è una piccolina, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio Dabari, saluto l'ospite. Ciao Enzo, mi volevo collegare al discorso ieri dell'Avvocato Liga, che lui diceva che la trattiera del Bari è molto semplice, venire con i soldi, dare delle garanzie, e noi la società è in vendita, questo è il primo punto Enzo. Poi al secondo punto mi volevo collegare al discorso dell'ospite di una cittura. Qui stiamo prendendo una piega molto pesante Enzo, qua stiamo parlando, e io ne ho dei dati certi Enzo, di far salire il Bari. E questo non va bene alla società, alla piazza come il Bari, prendere quest'altra parte. Però l'abbiamo detto adesso, abbiamo detto adesso, e lo so, ma se non vuoi fallire pagare i debiti, non puoi non fallire e non pagare i debiti. No, lui, Enzo, io ho un dato certo, scusami se ti interrompo, mi hanno detto che la società, e anche in primis la famiglia materrese, proprio per via della situazione che si è creata a Bari, con i tiboti del Bari, sono costretti anche a fallire e pagare i debiti Enzo. Questo io, te lo dico, ma non ho sentito dire da... O fallisci o paghi i debiti. Poi l'altra cosa che volevo dire, Enzo, come diceva prima l'altro stessentatore che ha chiamato, diceva ben certo, come si fa a far fare 30 milioni di debiti quando hai un'attività molto semplice Enzo? Io sono un'attività di abbigliamento, io sto vivendo un'attività perché non mi frutta, non mi va bene, io chiudo Enzo, non mi faccio arrivare a una somma esorbitante per non poter pagare i debiti. Grazie Antonio per il tuo intervento. Abbiamo detto una cosa, che o si pagano i debiti, o qualcuno paga i debiti per conto di... Oppure la società rischia di fallire. Però è anche vero che Matelisi hanno sempre detto, e lo ricordo perfettamente, con noi il Bari non fallirà mai. L'hanno sempre detto. Che vuol dire? Che d'improvviso potrebbero tirare fuori dei soldi? Pare di no, a quanto pare. A questo punto, se fosse possibile, avrebbero già potuto farlo. Ora, non conosciamo se c'è un... un piano. Però il discorso, riferendomi a quello che diceva l'amico che ha chiamato, quando si dice, occorrono i soldi in contanti per acquistare il Bari e prestare le garanzie. Però, io credo, e chiunque, se l'amico che è commerciante nel settore abbigliamenti, deve acquistare un esercizio da un altro collega suo, vuole avere la certezza di acquistare un'attività pulita. Allora, la garanzia della pulizia non la deve prestare lui, la deve ricevere. E il problema è che è difficile prestare la garanzia sulla pulizia di questo esercizio che viene ceduto, perché i debiti rimangono e abbiamo visto che sotto l'aspetto fiscale i debiti resteranno quasi al 100%. E quindi siamo quasi in chiusura. So che hai preso gli appunti su incombenzi mediate che il Bari, perché qui è chiaro che ci sono le scadenze. Esatto. Noi parliamo, si è parlato, si è detto, il Bari andrà avanti in autogestione come è andata quest'anno. Quest'anno è andata discretamente nel senso che, se non ricordo male, abbiamo mancato solo due scadenze per cui abbiamo avuto quattro punti di penalizzazione. Adesso abbiamo già una prima scadenza. Il 15 agosto scade il termine per prestare l'attestazione di avvenuto pagamento di stipendi e contributi previdenziali appunto sugli stipendi per il bimestre maggio-giugno. Quindi mancano 14 giorni. Quindi vedremo. Se non si dovesse rispettare questa scadenza scatterebbero già i primi due punti. E così via. Gli ulteriori dei punti perché ne abbiamo già la planizzazione. I primi due punti di questa nuova cosa. Noi sappiamo che la federazione richiede entro il quindicesimo giorno del secondo mese dopo il bimestre precedente l'attestazione di avvenuto pagamento di stipendi e contributi. Qualcosa c'è in cassa adesso? Ora, vediamo che ci sono tre trimestri fino alla scadenza di dicembre. Quindi tre necessità di far fronte a questi. Teniamo presente che è vero che ci sia stata una riduzione, però gli stipendi più alti a partire da quello di Ghezzal sono ancora a carico. secondo un certo calcolo dovrebbero essere a carico della società attualmente circa 6-7 milioni di stipendi per cui l'incidenza è di circa 500 mila euro al mese più i contributi. In sede di autogestione francamente vedo che sembra difficile stop aspettiamo io credo che si debba muovere necessariamente qualche cosa subito non può finire tutto così nel silenzio occorre che i protagonisti di questa vicenda si diano da fare. Grazie Peppino Accetture grazie per la sua collaborazione noi ci ritroviamo domani per l'ultima puntata diretta stagionale del Bianco e Rosso TV Sport ciao arrivederci ciao 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 ciao